Siamo con Manuel Anselmi, CGL oggi dipendenti comunali sono impegnati in una singolare manifestazione perché faranno anche un gesto abbastanza particolare che dopo vedremo. Perché questa protesta? Noi abbiamo un'avvertenza perché Tizia è aperta da oltre un anno, siamo ancora a discutere con i soliti punti, c'è la riscossione straordinaria anni 2011 e 2012, la produttività anno 2012 quindi questo è il punto principale che segna accordi fatti anche davanti al prefetto ma poi non rispettati ad oggi. E quindi ora dopo cosa farete un'assemblea e che cosa faranno i dipendenti insieme al sindacato? Abbiamo programmato che questa settimana un'ora di assemblea ogni giorno, salterà molto probabilmente la giornata di media di per problemi tecnici che abbiamo avuto, ci sarà molto probabilmente un'altra mandata nella settimana prossima. Stamani c'è una sorta di volantinaggio quantomeno tra noi dipendenti e so che alcuni di loro hanno preparato anche uno striscione, ora vediamo quando lo mettono fuori. Grazie.